Mentre in vista delle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio il primo cittadino uscente non si è ancora espresso nel centrosinistra e il ragionamento sui nomi è tuttora in corso, c'è il primo candidato ufficiale a sindaco di Sondrio. Si tratta del consigliere comunale di Sondrio Civica Luca Zambon, 39 anni, dottore ingegneria informatica e impiegato di banca. Dopo un'importante riflessione, sentiti amici e amministratori, persone con cui ho condiviso questo percorso amministrativo, ho deciso di mettermi a disposizione dei cittadini di Sondrio, dice. Nel condividere il progetto di Letizia Moratti, che con la candidatura alle regionali ha rafforzato e sottolineato l'importante ruolo delle liste civiche nelle amministrazioni locali, Zambon chiarisce che la propria candidatura, un'idea di Cristian Borromini condivisa, dice, con persone a me vicine che mi hanno spinto a crederci, vuole essere una candidatura apartitica, vuole rimettere al centro della politica il bisogno del cittadino, vuole essere libera di poter interagire a 360 gradi con tutte le forze che occuperanno nei prossimi cinque anni le cariche sovracomunali. Il candidato sindaco di Sondrio fa un cenno alla poca affluenza registrata alle ultime elezioni regionali. La gente, dice, non si fida più della politica e sempre più lontana dalle persone che dovrebbero avere il solo compito di rappresentarla. Essere sostenuto da liste civiche significa rappresentare il cittadino, non dover sottostare a nessun interesse partitico, essere liberi di amministrare nell'interesse della città e dei suoi abitanti. Sono questi gli elementi che mi hanno convito ad accettare questa non facile sfida. I cinque anni trascorsi a Palazzo Pretorio mi hanno permesso di fare esperienza amministrativa, ho sempre cercato di valutare le proposte con occhio critico, ma mai in modo prevenuto, possibilità che mi è stata data dal ruolo civico della lista con cui sono stato eletto consigliere comunale. Oggi mi metto a disposizione della città, pronto ad ascoltare e a farmi portavoce di persone che condividono questo principio civico, persone che mettono al primo posto il benessere della propria città, persone libere di poter immaginare e sognare una Sondrio migliore.